Morelli, sulla scuola si capitava? Sulla scuola, beh, certo, insomma, se distruggere la scuola, almeno l'impianto della scuola, per come è stato e ci ha fatto crescere tutti noi per assumere 50.000 persone, sembra un po' il bastone e la carota, no? Quindi meglio, l'ha detto adesso 50.000, prima l'ha detto 100, adesso 50.000. Quindi il ragionamento è se serve fare il preside padrino, se serve fare questo sistema. Ah, da sceriffo a padrino adesso, va bene, no, no, ma lo dico perché... Quello che può assumere l'amico dell'amico, io lo chiamo sceriffo, io lo chiamo padrino, lei lo chiami sceriffo. Però vi faccio un grande ringraziamento perché avete fatto un primo blocco riguardante l'immigrazione, 35 ore al giorno ospitiamo colazione, pranzo, cena, eletto logicamente in albergo, tanti clandestini e poi ci avete fatto vedere i pensionati che fanno fatica a arrivare alla fine del mese.